un buon pomeriggio si accende l'ora solare su tv 2000 per una puntata quella di oggi che ha come grande comune denominatore l'amore e per parlare di amore l'amore sapete quello lo sentiremo tra poco è una storia tanto bella e tanto importante quello che non finisce mai quello che supera tutto e poi quell'amore che si accende tra un personaggio perché persona splendida e il proprio pubblico e poco conta che siano passati 26 anni della sua scomparsa ma poi un grande attore scompare mai perché rimane ovviamente sullo schermo e nel nostro cuore perché continuiamo ad amarla lei era ed è Audrey Hepburn e per Audrey Hepburn scomparsa il 20 gennaio del 1993 abbiamo chiesto alla grande Laura Dell'Icolli di essere nostra guida oggi grazie Laura grazie ancora a te presidente dei giornalisti cinematografici italiani attenzione abbiamo chiesto quasi permesso a Fabio Falsone ovviamente certo ma lui ce l'ha dato volentieri ha dato il suo permesso grazie Fabio quindi grazie allora ho detto ho detto bene sì hai detto una cosa bellissima perché in fondo dobbiamo essere grati al cinema e anche al mondo dei media in generale del fatto che veramente grandi attori non se ne vanno mai perché il cinema li lascia con noi e in fondo questa bellissima immagine di una persona così semplice così amata è sempre fresca è sempre fresca continua ad essere questo lo dico e parleremo anche di questo fonte di ispirazione poco conta se non si abbia la sua silhouette poco conta se quegli abiti forse non sarebbero entrati mai ma lei rimane questa icona di bellezza in fondo in un tempo in cui le donne maggiorate e in cui le donne con delle curve procaci erano ovviamente come no destavano tutta l'attenzione e l'ammirazione arriva lei arriva questo fuscellino questa questa donna che ha anche una storia precedente al grande cinema molto importante perché la cosa importante è intanto la sua nascita perché ci sono nella sua storia c'è il belgio come diciamo terra di origine però c'è l'olanda c'è una famiglia diciamo anche con delle radici nobili da parte di sua madre una famiglia molto importante poi però c'è anche una storia dura perché questa famiglia è stata diciamo tra quelle che in belgio durante l'occupazione nazista ebbero dei fortissimi problemi quindi insomma nomi cambiati comunque una fuga perdita anche di quello che era il valore anche della della loro ricchezza familiare però con un'educazione meravigliosa è una sua attitudine alla danza che è quello da cui tutto comincia d'altra parte con quel fisico immaginiamo che fosse una poteva poteva pensare ora odriemburne che era e ora andiamo subito a rivederla nei nei suoi film era alta io erano scoperto relativamente parlando poco tempo fa però un po te ne accorgi quando è vicino agli attori ai suoi partner per esempio gregory peck in vacanze romane certo insomma lei è sempre piccolina ma portava infatti le ballerine e quindi ha lanciato anche delle mode quel quel pantalone così particolare così che oggi è tornato di moda tra l'altro certo le ballerine niente tacchi insomma veramente poteva permettersi poteva permettersi tutto assolutamente davvero tutto allora abbiamo citato gregory peck no sorrido perché mi viene sempre in mente il grande totò gregorio pecco cosa volete quelle cose che solo totò sapeva fare in fondo il cinema è tutta una grande famiglia questo ruolo in vacanze romane quello della principe sanno inizialmente venne proposto a elisabeth taylor si doveva lui avrebbe dovuto essere che riguarda sì però che i grandi se io sono troppo vecchio per fare questa parte ma forse lo disse dopo quando in realtà già era stata sostituita assegnata lì taylor ed era emersa questa questa giovane così che aveva fatto gg quindi aveva fatto una una commedia teatrale diventata poi diciamo un must anche nella sua immagine da cui tutto è cominciato perché gg doveva anche un po ballare comunque l'aveva scelta colette la grande scrittrice che era proprio l'autrice del romanzo la noto insomma una grande ballerina non divenne mai anche se la danza rimase nel suo cuore una grande attrice con vacanze romane premio oscar al primo colpo come non innamorarsi della principessa anna non guidate così la vespa mi raccomando che è un'altra protagonista è un'altra grande protagonista vediamo attenta fermate fatemi salire una sola fatemi salire fatemi salire him vederò io hai per roma oggi oggi non si potrebbe guidare così la festa a roma sarebbe stato doppiamente doppiamente pericoloso roma roma che resterà nel cuore e tornerà nella vita nella vita perché lei poi avuto tra l'altro ha avuto anche un amore italiano una vita italiana ha un figlio dei due che italiano comunque diciamo che ha sempre amato il nostro paese quindi in qualche modo amando il nostro cinema ma amando l'italia perché nella sua parte nella prima parte della sua vita lei ha avuto questo grande amore con mel ferrer tant'è vero che il suo figlio sean il suo primo figlio è nato da mel ferrer la seconda parte dopo il divorzio qualche anno dopo incontra andrea dotti andrea dotti con il quale poi avrà il secondo figlio luca e devo dire che questi due figli le hanno regalato negli anni anche libri una bellissima mostra cioè una una sorta di vorrei dire di omaggio continuo che 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 prosegue perché riescono a tenere a tenere fresca la memoria che c'è intorno a lei oltre il fatto che lei sia diventata un'icona di bellezza di eleganza e soprattutto lei che diceva se vuoi avere labbra belle usa parole gentili se vuoi avere capelli belli fa che almeno una volta al giorno un bambino li accarezzi non erano frasi fatte era proprio una donna che no perché lei lei a un certo punto negli anni settanta questa grazia dedicarsi soprattutto alla famiglia e quindi è stata capace anche di fare una scelta importante non tutte le attrici che l'hanno fatto ma lei ha avuto sempre una grande personalità anche nello scegliere la strada più giusta allora abbiamo visto le immagini insomma del finale di vacanze romane alzi la vita la mano chi tra voi tutte le volte non spera che vada a finire in un altro modo e no perché sei lì che dici magari se lo rivedo e mi concentro alla fine si sposa si sposano però è un evergreen come si dice ecco sì ecco sì altri tempi poi proprio altri tempi no una principessa di sangue reale lei è un po incarnato anche una cenerentola nei film che ha fatto cioè curioso questo modo di raccontarsi perlomeno i registi sceglievano grandi registi con cui ha lavorato di darle questo ruolo di una cenerentola anche quando è stata principessa al contrario allora sapete che cosa facciamo noi ci fermiamo solo per un attimo con laura dell'icolli che ancora ringrazio perché laura è il cinema che parla e non esageriamo però insieme possiamo raccontare sì sicuramente sì lasciate gentilmente la finestra aperta con la stessa grazia con la quale la signora audriè burr avrebbe spalancato la sua l'ora solare l'ora solare con laura dell'icolli presidente dei giornalisti cinematografici italiani il 20 gennaio del 1993 chiudeva i suoi immensi occhi odriè burr noi la vogliamo ricordare così la ricordiamo anche con questa immagine quante bambine si chiamano sabrina grazie a questa sabrina regia di billy wilder sabrina che scrive una lettera al proprio papà da parigi col sospiro è notte ed è molto tardi qualcuno che attorno sta suonando la via rosa e la maniera francese per dire sto guardando il mondo con degli occhiali colorati di rosa ed è esattamente quello che provo io adesso ho imparato tante cose qui e non soltanto come si fa il canara l'orange o la crema la vichy ma una ricetta molto più importante ho imparato a vivere ho imparato ad essere qualcosa di questo mondo che ci circonda senza stare lì in disparti a guardare stai pur certo che ormai non la fuggirò più la vita e neanche l'amore si muoveva con un minimo gesto e quel minimo gesto recitava sai che c'è da dire anche che nella versione italiana lei è stata doppiata tra le prime attrici doppiate da maria pria di meo che è poi la doppiatrice chapeau la grande doppiatrice di mary stripp che mary stripp ha veramente ringraziato quando è venuta in italia che oggi è una voce più matura e infatti doppia delle attrici più mature però pensa che importanza me lo permetti a maria pia di meo un applauso direi che speriamo che ci stia seguendo ma perché grande grande doppiaggio che poi ha reso chiaramente tuo quel personaggio no perché quella per noi è stata ed è la voce di odie hebber che si innamorò follemente di william olden torneranno a recitare anche insieme anche in un altro film molti anni dopo però però poi non non si arrivò non si arrivò la conclusione a matrimonio insomma assolutamente no però guarda guardando questa foto pensa alla moda che lei ha lanciato con questo link anche con parigi che è stato meraviglioso nel film però poi c'è stato anche l'incontro con givanshee quindi l'idea che lei diventa la musa e anche un po' l'icona di quell'eleganza certo che è un fisico talmente perfetto ah certo la vestivi con insomma pesava poco più di 40 chili quindi provate a immaginare che cosa questo volesse dire robert de givanshee che quando andò ad aprire la porta perché stava arrivando miss hebburn credeva di avere davanti a sé katrine hebburn e invece arrivò lei ma insomma nacque un'amicizia meravigliosa abbiamo poche immagini di guerra e pace dove anche anche qui lei è una principessa natasha di una bellezza si principessa per sempre perché guardate la guardate la è una cosa che la vorresti avere a casa sul comodino e questo è stato il suo primo marito si il suo primo marito merferrer come dicevamo prima quindi un colpo di fulmine forse un incontro non proprio fortunato vogliamo dire perché sicuramente lei è stata più fedele di lui decisamente abbiamo ancora poi tantissimi altri attori lei ha recitato con kerry grant in un bellissimo charada è stata con gary cooper in arianna e c'è la storia di una monaca del 59 ecco lei riesce poi a interpretare anche ruoli si anche ruoli che in qualche modo si avvicinano anche a quel suo modo di essere così rigorosa insieme generosa capace di una grande poi generosità come ha dimostrato dopo diventando ambasciatrice dell'unicef andando per il mondo ecco questo questo è il film che è ispirato alla storia di una vera suora tra l'altro la curiosità è che in questo film l'ambientazione è un po tra il belgio c'è anche un po di olanda e negli anni venti poi arriva naturalmente c'è c'è la guerra di mezzo e in tutta questa storia che si racconta è strano che i luoghi siano coincidenti quasi con la sua storia personale addirittura questa suora parliamo del 59 Fred Zinman quindi un altro grandissimo regista questa suora decide di andare cioè lei è una persona che viene da una bellissima famiglia decide di prendere i voti lascia un fidanzato e diventando suora va in Congo è curioso che nella vita poi lei si è andata a fare esattamente questo giro del mondo e questo rapporto con l'Africa molto importante quando è diventata ambasciatrice dell'unicef allora è grande ruolo per l'unicef avuto Odriebon veramente un grandissimo grandissimo ruolo si è spesa anche quando la sua salute non l'aiutava più è vero e poco importava lei c'era e ha continuato ha continuato fino alla fine come non prima di chiudere perché chiude Laura Delicoglio ora ci racconta altre cose e come è bello prendere la pioggia quando cerchi un gatto a New York è il film è colazione da Tiffany miau è bellissima Gatto 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 Gatto